Ormai un mese ci separa dalla fine del GF VIP 5. Qualcuno però, non è ancora riuscito a fuggire lontano dall'ombra dei Gregorelli Alla confessione da lui fatta, in cui dichiarava di essere pronto ad uscire dal reality con, se ne è affiancata un'altra su novella a 2000 L'ex belino di Striscia ha raccontato perché con la conduttrice non sarebbe potuta nascere una storia Ma non è l'unico argomento affrontato nell'intervista, poiché ha confessato anche un episodio accaduto e già sospettato da qualcuno, ma finora tenuto celato Avete indovinato Continua dopo le foto, ha confessato di aver rivisto Eli Greg dopo la fine del GF VIP Leggiamo insieme cosa ha detto di preciso, la mia storia con Giulia architettata per business. Schiochezze inventate Sui social ci sono schieramenti di fan che si scontrano quotidianamente Ci sono i Gregorelli che sognavano il mio fidanzamento con Con Elisabetta ci siamo visti dopo la fine del reality Continua dopo le foto, con Elisabetta ci siamo visti dopo la fine del reality, ma per motivi lavorativi Ho sempre evitato di contattarla o stringere amicizia Questo per rispetto verso Giulia Con Eli non poteva nascere nulla e questo perché lei aveva messo dei paletti Continui freni fin dall'inizio, ma sembra che la gente non voglia accettarlo Continuo dopo le foto, poi Pierpaolo ha accennato anche al fratello Giulio, che preferiva si mettesse con Io e lui abbiamo parlato a lungo di questo Mi dispiace per ciò che è successo. Comprendo che Giulio sia andato in tv per parlare di me Questo è normale, lo fanno tanti parenti e amici Però mio fratello deve capire che quando dichiari qualcosa in tv o sui giornali Poi te ne devi prendere la responsabilità Adesso, abbiamo fatto pace, lui ha incontrato Giulia. Pubblicato il 2 aprile 2021 alle ore 8.46 Ultima modifica il 2 aprile 2021 alle ore 08.46 Coming soon Nei Dabra Begge Non Mi Standing Hai